Pronto? Pronto. Chi parla? Dimmi il tuo nome, io ti dico il mio. Non ci contare. Cos'è questo rumore? Popcorn. Stai facendo i popcorn? Beh, volevo guardarmi una cassetta. Davvero? Quale? Oh, è solo uno di quei film dell'orrore. Ti piacciono i film dell'orrore? Ahah. Non mi hai detto come ti chiami? Perché vuoi sapere il mio nome? Perché voglio sapere chi sto guardando. Qualcuno sta facendo un gioco mortale. Tutto è cominciato con una chiamata d'emergenza. Qualcuno che ha visto troppi film dell'orrore. Ma adesso per amore della paura. Pronto? Si è spinto troppo oltre. Ti piacciono i film dell'orrore? No! Che gusto c'è? Il fatto è che sono tutti uguali. Uno stupido killer che insegue una tettura che non sa recitare e corre sempre su per le scale invece di uscire di casa. È un insulto. Ci sono regole precise che devono essere rispettate se si vuole sopravvivere in un film dell'orrore. Numero uno. Non si deve mai fare sesso. Sidney, sono io. Mai, mai e poi mai. In nessun caso dire torno subito. Perché non si torna più. Mi prendo un'altra birra, ne vuoi una? Sì, certo. Torno subito! Non le ha inventate lui le regole. La polizia dovrebbe guardarsi non entrare in quella casa. Risparmierebbe tempo. Ma le segue per uccidere. Non rispondere al telefono. Non aprire la porta. Non cercare di nasconderti. Al maestro della suspense, Wes Craven. Sono tutti sospettati! Soltami! Una lezione sulla paura. Non ha paura.